MINGIA PITER Che si dice? Oh my god Mi devo ammazzare stavolta MINGIA Il picciotto è una porzia di speck Signor Johnson Signor Johnson Io ho fatto dei biscotti Ciao Come c'è? Cosa vuole affermare noi? Scotta signor Johnson Ah no Sì Fuffi Fuffi Oh signora si preoccupi Non si preoccupi Signora non si preoccupi Oh no Oh Salve Oh madonna santa Amico E ti difilatela Andale andale Aspetta aspetta di nuovo Amico Di guerra Dai 3 Arrabbiato arrabbiato Dai Piena Penso proprio che questo gatto E' il suo E' il suo E' il suo E' il suo Lo siente E' il messaggero Ma proprio la necessità di questo gatto E' il suo E' il suo E' il suo E' il suo Vaffan ciao E' il suo E' il suo Che cazzo è Ballate Sto facendo? Michele Signor Michele Come ti fanno? Non voglio sapere più niente Ok? Mi serve col gatto Ora Mi lo prendo Ahahahah Trasporta la tua rega Che c'è? Non sei capito? Mi schiaccio tutti L'ultimo L'ultimo fiale Salutatemi E' il mio amico Eh Io E' puta Amico E' sto gatto Mi appartiene E' il suo regalo del mio amico Ce l'ho in fuda Peter, ti ricordi? Mi scoffro prima, aspetta Peter Peter ti ricorda? Ti ricorda? Uno giorno quando sei passato a casa Che difficile Un detto della regola Grazie Un incarico rilevante Sai che è successo? Sai che è successo Peter? Con la vecchia, sai che cosa va a mezzo? Che cosa? Fuffi 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 E' un cazzo di gatto Dìà Dìà Marista Oh mazzo Comunque sia Ragazzi Questa era l'ultima E io vi lascio questa What's up? Cazzo Parista Parista Altra Ragazzi Mi è rimasta solo questa Una Perché sei incazzato? Cari Mi stavo divertendo Trasera Non vanno per gli affari Devi smetterla Oh Forse che la polizia venga a farti un controllo nel locale State esagerando State esagerando State bevendo troppo Priago Ragazzi Questa me la porto via Oh Oh E' un po' Mi vuoi parlare di galetti in un video Parista Io posso aprire anche 10 birre Non mi fumo niente Quelle 50 birre di me Andagela a vedere Madonna Usa me che è il secondo gioco Sì sì Pallo di gioco Pallo di gioco Tu non sai che è successo? Che cosa? Che è successo? Ammazzate abbiamo fatto Ammazzate Per un gatto Un messicano Miguel 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 Dove è quel criminale? Sì Lo che abita Vicino Vicino al tuo don Sì Nel quartiere messicano Nel quartiere messicano Io non lo so Nel quartiere Il quartiere messicano degli anziani In pratica la batteria si è fottuta